Buonasera, Tommaso, Pisa, storia. Marco Arvati, Milano, storia. Emanuele Carulli, Leeds, Fashion Design. De Santo Pietro, Ingegneria Meccanica alla Spezia. Costa Matteo, Pisa, Jurisprudenza. Benedetta Arena, Medicina, Pisa. Serena Relante, Scienze Internazionali Diplomatica e Fornì. Mi chiamo Elena Naviosa e studio Economia alla Bocconi di Milano. Riccardo Ricci, vivo in Florida, Tampa e studio Business. Sofia Millepiedi, Comunicazione e Società a Milano. Mi chiamo Virginia Taddei e studio Giurisprudenza a Pisa. Metrice Morelli, storia a Bologna. Sono Rebecca Mannoci e studio Lettere Moderne alla Università Cattolica di Milano. Mi chiamo Gian Maria Tosi, ho scelto Milano e studio Giurisprudenza. Davide Simonelli, Milano, Economia e Management per Arte, Cultura e Spettacolo. Ciao, mi chiamo Bianca Cattano e faccio Filosofia a Milano. Mi chiamo Chiara Vergassola, studio a Pisa e faccio Scienze dello Spettacolo e della Comunicazione. Mi chiamo Francesca Nielgio, frequento la Facoltà di Giurisprudenza a Pisa. Mi chiamo Martina Vergassola e frequento la Facoltà di Lettere Antiche a Pisa. Vito Calabrese de Feo, Milano, Giurisprudenza. Ciao, sono Giuditta Piva e ho scelto di studiare a Pisa nella Facoltà di Disciplina e della Spettacola e della Comunicazione. Sono Beatrice Lovisotti e studio Medicina e Chirurgia all'Università di Pavia. Io sono Margherita Cortelezzi e faccio anche Medicina e Chirurgia, però a Parma. Francesca Guerra, Milano, Economia per l'Arte e la Cultura e la Comunicazione, Bocconi. Ciao, sono Martina Bottazio e ho scelto di studiare Scienze Politiche presso l'Università di Pisa. Mi chiamo Di Artan e frequento Chimica a Pisa. Mi chiamo Flavia Tornapuani e frequento la Facoltà di Giurisprudenza a Pisa. Ciao, sono Martina Battirani e ho scelto di studiare Lettere Moderne presso l'Università di Bologna. Mi chiamo Lavoro a Fantini e frequento la Facoltà di Scienze del Servizio Sociale a Pisa. Agnese Corradino, ho scelto Roma alla LUIS Giurisprudenza. Ludovica Baduini, Roma LUIS Giurisprudenza. Luca Valdini, Roma, Economia e Management alla LUIS Guido Carli. Mi chiamo Serena Mazziotta e frequento la Facoltà di Scienze del Turismo a Lucca.